Risultato investigativo, quello che hanno raggiunto i carabinieri delle compagnie di Bianco e Rocella Ionica. Sono riusciti ad arrestare un rapinatore di uffici postale della Locride, incastrato dal suo DNA e addirittura una rapina che avrebbe compiuto 10 anni orsono. In manette è finito un giovane di gioiosa Ionica. Infatti i carabinieri all'alba di ieri hanno fatto irruzione nell'abitazione di SC di 30 anni, il quale avrebbe commesso al mato di coltello e col volto coperto da un passamontagna, una tentata rapina e una rapina negli uffici postali rispettivamente di Caraffa del Bianco e gioiosa Ionica, rispettivamente nel 2018 una e l'altra nel lontano 2010. Nel dicembre 2018 due persone armate di pistole e di coltello e col volto coperto entrarono nell'ufficio postale di Caraffa del Bianco e minacciarono la direttrice per farsi consegnare i soldi con i quali sarebbero state pagate le pensioni di diversi anziani. La rapina però non andò a buon fine anche grazie alle urla di una pensionata che, poco dopo l'irruzione dei due malviventi, annunciò, ridando a più non posso, l'arrivo dei carabinieri facendo scappare i rapinatori. Le successive indagini dei militari consentirono di concentrare l'attenzione sul destinatario dell'ordinanza, ossia di un giovane gioiosano, anche grazie alle testimonianze di chi si trovava in zona quel giorno e al controllo dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza in alcuni punti della città collinare della Locride. I carabinieri inoltre trovarono per strada i berretti passamontagna di cui i rapinatori si erano disfatti durante la fuga. Dalle analisi effettuate dai carabinieri del RIS è emerso che le tracce biologiche rilevate su uno dei due passamontagna apparterebbero al giovane gioiosano. Ma non è tutto, le evidenze raccolte infatti hanno consentito di riaprire anche un altro caso di rapina che era rimasto un caso giudiziario in risolto, ovvero quello della rapina dell'ufficio postale di Gioiosa Ionica avvenuto nel lontano 2010 in circostanze analoghe. In quell'occasione un soggetto armato di coltello era riuscito a prelevare minacciando un impiegato circa 28 mila euro in contanti per poi fuggire a piedi per le vie del centro. I carabinieri di Roccella Ionica però controllando minuziosamente la via di fuga del rapinatore erano riusciti a trovare un berretto di lane e un pullover compatibili con quelli indossati dal rapinatore al momento della rapina. Elementi che allora si erano rilevati insufficienti per proseguire le indagini a distanza di 10 anni però le indagini scientifiche compiute dai carabini del Risse di Messina hanno dimostrato inequivocalbilmente che il pullover era stato indossato dalla stessa persona che otto anni dopo ha commesso l'attentata rapina all'ufficio postale di Caraffa del Bianco. Ieri mattina quindi per il 30 NSC di Gioiosa Ionica sono scattate le manette ai polsi.